ciao amici la cheesecake è un dolce sicuramente goloso ma non altrettanto sano e così spesso rimaniamo a chiederci triste rinuncia o tentazione golosa con senso di colpa annesso finalmente non dovrete più scegliere oggi condivido con voi una ricetta di cheesecake light brucia grassi e dimagrante se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video il trucco segreto di questa ricetta di colore verde si chiama avocado una cheesecake verde creativa nel gusto e nel look ingredienti per la crema un lime 2 avocado maturi 40 ml di sciroppo d'agave 3 cucchiai di olio di cocco per la base 140 grammi di datteri secchi 70 grammi di mandorle 140 grammi di datteri 70 grammi di mandorle 2 cucchiai di olio di cocco preparazione con un frullatore potente frullare datteri snocciolati e mandorle sciogliere l'olio di cocco a bagnomaria poi aggiungerne 3 cucchiai alla base mescolare bene e disporre tutto in una tortiera coprire con la carta da forno pressare bene e poi mettere due ore in freezer intanto spremere il lime e mescolare il succo con la polpa di avocado la scorza grattugiata di mezzo lime lo sciroppo d'agave e l'olio di cocco sciolto a bagnomaria togliere la base dal congelatore e versare la crema prima di servire si deve addensare in frigorifero per almeno 30 minuti per guarnire potete usare delle fettine di lime ovviamente sbucciate wow che delizia è buona e anche sana benefici degli ingredienti l'avocado è ricco di grassi buoni omega 3 proteine vegetali minerali sostiene il metabolismo fa bella la pelle nutre ed ha energia l'olio di cocco contiene acido laurico considerato un dimagrante naturale ho parlato dell'argomento in questo video i datteri contengono zuccheri buoni vitamine minerali le mandorle sono ricche di omega 3 vitamina e vitamina b2 magnesio il lime contiene vitamina c antiossidante contro le tossine i radicali liberi lo sciroppo d'agave è uno zucchero naturale che non disturba la glicemia come avete visto questa cheesecake è vegan e crudista cioè fatta senza forno e questo è il segreto per cui è light e dimagrante per vedere tante altre ricette trendy e sani come questa basta iscriversi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto anche se non ricevete le notifiche e molti mi scrivono che succede andate sulla home del canale perché pubblico nuovi video ogni giorno mangia sano e dimagrisci diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri ed ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao